Oggi andiamo a provare un indicatore nuovo per me, che utilizza i volumi in un modo che non avevo mai visto prima, un po' sofisticato, complesso e lo applichiamo direttamente su Bitcoin. Vi farò vedere il codice, ovviamente vi farò vedere le performance e vi farò vedere le differenze tra un'ottimizzazione e l'altra. Benvenuti a tutti signori in questo nuovo video, io sono Francesco Buzzi, insegno come guadagnare su mercati senza diventarne schiavi. È lunedì, ma quanto è bello il lunedì, si ritorna a lavorare, si ritorna con i mercati aperti, si ritorna a girare. Questo sarà un video un pochino differente proprio perché questo indicatore effettivamente è nuovo per me, quindi andiamo a leggere insieme che cosa fa, lo andiamo a scrivere e lo andiamo a testare. Subito dopo la sigla. Ok, siamo interessati ai volumi, vogliamo fare qualcosa di più esotico e sofisticato, approcciamo un nuovo indicatore. Ovviamente ce ne sono centinaia, quindi questa ricerca può andare avanti tutta la vita senza alcun problema. Beh, io non lo conosco, non lo conoscevo, il Klinger. Andiamo a scoprire su Traderpedia che cosa fa e che cosa non fa. L'oscillatore è stato sviluppato per perseguire due obiettivi, essere sensibile ai segnali dettati dai massimi e minimi di breve, ma essere anche abbastanza accurato per riflettere il flusso di denaro nel lungo termine. Il Klinger si basa su due principi, il range è una misura di movimento e la somma di massimo e minimo di chiusura definisce il trend. E poi il volume produce continuamente cambi nei prezzi intraday, segnalando così pressioni di acquisto e di vendita. Queste cose non sono certo che sia vero, perché se si parla di accumulazione e distribuzione, ho imparato che non è proprio come ci si immagina solitamente. Non c'è, insomma, i compratori e i venditori sono sempre al stesso numero. Quindi quello che sanno i discrezionali spesso è un pochino sbagliato. Comunque, questo è l'indicatore, quindi abbiamo il trend e i volumi. E su Traderpedia si legge dal punto di vista interpretativo, è bene ricordare che i segnali più affidabili si verificano nella direzione del trend. I buoni segnali si verificano quando il clinger è in divergenza col prezzo e se il prezzo di un trend è ascendente bisogna acquistare quando il clinger cade verso i livelli inusuali sotto lo zero, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è riferimento ovviamente allo strumento finanziario. Ma io ho pensato, ci interessa il trend, ci interessano i volumi, ci interessano un sacco di cose super interessanti. Beh, andiamo ad applicarlo su uno strumento finanziario che ha queste caratteristiche all'ennesima potenza. I bitcoin. I bitcoin si muove in un modo assolutamente spropositato, è estremamente volatile, è estremamente rischioso, tanto che la sua volatilità monetaria è incredibile, cioè si muove veramente di tantissimi dollari ogni giorno, perfetto. Allora abbiamo uno strumento finanziario estremamente breakout, estremamente direzionale anche, beh, dove non applicare allora un indicatore simile che fa esattamente queste cose. Ha un grafico simile, produce un grafico simile, con la linea rossa che prende un trend, la linea blu la sua media, la media del trend, e poi lo zero. Quindi abbiamo comunque sempre un sopra e sotto lo zero. Per identificare un trend qua possiamo fare mille cose. Per ogni indicatore, ad esempio, che ha un sopra sotto lo zero, possiamo semplicemente dire se sei sopra lo zero, compra, se sei sotto lo zero, vendi. Oppure possiamo dire compra se sei sotto lo zero, perché magari il trend parte in modo diverso, ci sono un sacco di cose che si possono provare. Come anche quando abbiamo un indicatore e la sua media mobile. Possiamo chiedere che l'indicatore sia maggiore della media mobile, oppure il contrario, oppure crescente, oppure un incrocio. Le combinazioni sono infinite. Quindi abbiamo un indicatore che lavora sui volumi. Questa è la funzione del clinger volume oscillator. Questo è l'indicatore. Quindi abbiamo il clinger, abbiamo il trigger e abbiamo la media uno dell'altro sostanzialmente. E poi abbiamo il nostro sistema. Il nostro sistema, aspetta che lo semplifico ancora un po' perché alcune cose non le ho usate. Ecco qua. Il nostro sistema è estremamente semplice. Semplicemente dice, quando sei dentro una finestra oraria, compra al massimo della barra precedente, al minimo della barra precedente. Questo è un test per capire come si comporta Bitcoin. Vi scoraggio in modo fermo, netto e preciso ad andare live su Bitcoin. Assolutamente. Perché la finestra oraria? Beh, è molto evidente. La finestra oraria è importante per capire gli orari durante la sessione in cui i volumi sono maggiori. Entrare a mercato nella sessione notturna di Bitcoin veramente ci mette alla merce del mercato con 137, 45, 79, 34 volumi ogni mezz'ora. E sono veramente pochi. Cioè, rischiamo di subire uno slippage francamente insostenibile. Quindi è importante capire di entrare a mercato dopo le 8, dopo le 9, eccetera, eccetera. Perché ci sono ben mediamente i volumi maggiori. Tutto qua. Poi chiaramente, contestualmente fa anche da filtro, per carità. Ma soprattutto ci rende tradabile questo sistema. E poi abbiamo messo il nostro bel indicatore e il trigger. Quindi, quando l'indicatore è maggiore del trigger, entriamo long. Quando l'indicatore è minore del trigger, entriamo short. Come dicevo, qua si possono fare mille cose. Si può utilizzare lo zero, si può utilizzare le medie, si possono utilizzare mille cose. Noi abbiamo tre input da dover ottimizzare. La media mobile veloce, la media mobile lenta e il trigger. La media mobile veloce e lenta compongono il clinger volume oscillator. E il trigger compone la media del clinger volume oscillator. Quindi abbiamo in rosso l'indicatore e in blu la media, sostanzialmente quello che dicevo prima. Si possono utilizzare in mille modi, ripeto. Uno maggiore dell'altro, c'è il cross, c'è quanto più grande uno dell'altro, uno può essere minore dell'altro perché il trend partiva prima, partiva dopo. Si possono fare mille cose. Comunque questo è il sistema. Quindi abbiamo la media mobile veloce, la media mobile lenta che compongono il clinger volume oscillator e il trigger che compone la media, sostanzialmente esponenziale in questo caso, del clinger. Sono tutti i codici che ho preso online. Cioè ve lo dico proprio francamente, sono molto sereno nel dirlo. Non mi interessava studiare questa cosa più di tanto. Per il solito discorso, io voglio arrivare al mio obiettivo il prima possibile. Cioè in questo caso era fare un test, devo fare un test, perfetto, non c'è problema. La maggior parte del codice che si utilizza lo si prende da trading system vecchi, lo si prende da i miei mattoncini che metto a disposizione nel corso trading scocchierello per principianti, che è un foglione con tanti codici dentro e lì si trova anche online. Bene, questa è l'applicazione di questo trading system con le uscite temporali, ma questo non ve lo sto neanche a dire perché ci sono sempre. Cioè dopo tot barre esco dal mercato e con lo stop and profit su bitcoin a 30 minuti. Quindi abbiamo 407 mila dollari, 1,46 di profit factor long e 1,45 short, quindi un'ottima media con un po' più di profitto short. 776 dollari di average trade e 99 mila dollari di drawdown. Le impostazioni sono quelle che vengono consigliate in modo standard, quindi la media mobile veloce 34 periodi, la media mobile lenta 55 periodi, il trigger 13. Ok? Questa è una cosa importante. L'inizio della finestra oraria è 11 per 10 barre, cioè 5 ore. L'uscita long 200 barre, l'uscita short 100 barre, stop 2500 dollari, che è oggettivamente poco, però è un test, quindi va bene così, pazienza. Crea una percentuale di trade vincenti un po' troppo bassa. Fatto sta che utilizzando lo scafandro che gli ho messo attorno, ma con gli input classici d'accademia che vengono consigliati effettivamente per il Klinger Volume Oscillator, si fa questa performance. La si fa un po' perché l'indicatore effettivamente aiuta, un po' perché siamo proprio su bitcoin. Se l'utilizzassimo su qualsiasi altro strumento finanziario non sarebbe uguale, non lo so, metto stocks, vediamo se si carica, non sarebbe affatto uguale, perché le caratteristiche dello strumento finanziario sono quelle che alla fine ti danno un risultato. Bene. Allora poi ho ottimizzato i valori. I valori che, appunto classici, non so neanche se entra a mercato, quindi... Fa un solo trade su stocks addirittura, forse per l'orario. Vabbè, allora ci metto Dow Jones, dovrebbe andare meglio. Sono andato quindi a ottimizzare le medie mobili e il trigger, cioè le lunghezze effettivamente ottimizzabili dell'indicatore. Oh, su Dow Jones abbiamo la possibilità di vedere un risultato. Ecco qua. Ecco. Stessa caratteristica, stesso future, inteso come strumento finanziario. Non siamo andati sulle stocks, non siamo andati sul forex e il risultato è molto peggiore, perché le caratteristiche del Dow Jones sono diverse da quelle del Bitcoin. Quindi già capire le caratteristiche ci mette in una posizione di vantaggio incredibile. Quindi ho ottimizzato i valori che erano da ottimizzare e il risultato è stato questo. Quindi un miglioramento delle performance considerevole. 691.000 dollari, 1,88 di profit factor, 34% di trade vincenti, 1300 dollari di average trade, che è già più sensato su Bitcoin, 68.000 dollari di drawdown. Questi sono valori realistici per il Bitcoin. Cioè 68.000 dollari non si tratta Bitcoin, il future Bitcoin live, mi raccomando. Ok? Non so quante volte ve lo devo dire, ma questo è. Con una esplosione delle performance ovviamente nell'ultimo periodo, anche per la grande volatilità. Quindi il risultato è un indicatore sicuramente utile, sicuramente complesso e ci dà anche un'altra informazione. Sì, i volumi effettivamente sono un ottimo modo per creare indicatori e sfruttare gli indicatori. D'altronde noi abbiamo solo due informazioni su un grafico, prezzo e volume. Quindi tutti gli indicatori sono delle derivate di prezzo e volume. Allora perché non utilizzare volume anche? Ci sta, è un indicatore che non conoscevo, che non penso di implementare da subito così, un po' per la complessità, un po' perché devo capirlo meglio, un po' perché lo devo testare. Però intanto il codice è qua, fate i vostri test, divertitevi, fatemi sapere cosa ne pensate, scrivete nei commenti i vostri risultati, i vostri test, se lo conoscevate, se non lo conoscevate. E soprattutto c'è tutta la playlist dei video del lunedì con tutti gli indicatori che sto testando, ADX, RSI, tutti i sui volumi, sulla volatilità, sto facendo un sacco di test super interessanti. Detto questo, non mi ricordo cos'altro dire, tutti i link in descrizione, ci vediamo con un prossimo video, mercoledì, la prossima volta, la prossima volta che c'è un video ci vediamo. Vi auguro una splendida settimana a tutti, una splendida settimana di trading, di profit e di goduri e varie. Ciao!